Grazie a tutti. Viaggia ogni anno sempre più spedito, infatti sono numerose le scuole che hanno già rinnovato la loro presenza per la nona edizione del concorso. Durante la finale si è svolta la proiezione di tutti i 15 i corti, 3 per la sezione Corti dei Licunti e 12 per il Festival Ciaxi Gita. Dopo la proiezione dei corti per la sezione Corti dei Licunti 2019 sono stati premiati, con il premio Studenti, l'Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Montezemolo di Roma, con il premio Miglior Costumi, l'Istituto Comprensivo Matteo della Corte di Pompei, con il premio Speciale Miglior Attrice Corti dei Licunti, la studentessa Giovane Paola, dell'Istituto Comprensivo Matteo della Corte di Pompei. In seguito è stata effettuata la premiazione per il concorso Ciaxi Gita Spot Festival 2019. Il premio al miglior corto sul bullismo è stato vinto dall'Istituto Comprensivo Viale Liguria di Ruzzano. Il premio al miglior documentario è andato all'Istituto Comprensivo Fratelli Trillini di Osimo. Il premio per il miglior soggetto è stato vinto invece dal liceo scientifico Alberti di Minturno. Il premio Studenti lo ha vinto l'Istituto Comprensivo Mimmo Beneventano di Ottaviano, mentre il premio alla miglior attrice è stato assegnato alla protagonista del corto dell'Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Siracusa. Il liceo scientifico Italo Calvino di Opera ha trionfato con il corto chiave di violino, vincendo il premio della critica, il premio al miglior attore e il premio per il miglior corto categoria scuola secondaria di secondo grado. Inoltre il liceo avrà la possibilità di partecipare all'X World Short Film Festival a Roma, diretto da Alex Guarino della giuria di qualità. Come miglior corto della quarta edizione di Corti dell'Icunti è stato premiato la scorticata dell'Istituto Comprensivo Fusco di Castelforte. Invece, come miglior corto della categoria scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, sono stati premiati rispettivamente il corto Cittadini in tutti i sensi, Telasenti, dell'Istituto Comprensivo Statale di Pero, ed il corto Bella Italia, Amate Sponde, dell'Istituto Comprensivo Don Peppe Diana di Portici. Inoltre è stato anche assegnato un premio al miglior servizio giornalistico vinto dall'Istituto Comprensivo Gemito di Anacapri. Ogni anno il concorso si arricchisce di nuove iniziative. Grazie a Francesco Cairone di Promogite, quest'anno si è premiato il miglior scatto fotografico con la prima edizione di La tua gita in un click. Il premio è stato vinto dalla studentessa Martina Simonetti dell'Istituto Comprensivo Mimmo Beneventano di Ottaviano. Durante la proiezione dei corti a dimostrare la sana competitività del concorso, numerosi sono stati gli insegnanti dei vari istituti a non riuscire a trattenere l'emozione, anche per via degli argomenti trattati come il bullismo, l'immigrazione ed altri seri problemi che affliggono i ragazzi di oggi. Particolarmente positivo è stato l'intervento della professoressa universitaria Carmen Lucia, come membro della giuria di qualità, che ha definito Ciac Sigita come un progetto che lega l'etica all'estetica e che ha lanciato un messaggio agli insegnanti scolastici, i quali, secondo la professoressa, dovrebbero dare più importanza alla cittadinanza attiva e che dovrebbero rinnovare le programmazioni, dando più ampio spazio all'insegnamento della Costituzione e dei diritti. Al termine della mattinata, i due ideatori del progetto, Francesco Cairone e Gianni Petrizzo, si sono ritenuti particolarmente soddisfatti da questa edizione del festival, che ogni anno diventa sempre più ampio e conosciuto e che punta ad espandersi sempre di più. Infatti, il progetto Ciac Sigita sarà presente a Firenze alla Fiera Didacta, un convegno internazionale sul mondo della scuola che permetterà al concorso di essere ancora più noto su scala nazionale.